Carissimi amici, bentornati o benvenuti a tutti in questa nuova puntata del ciclo di Catechesi, la sana dottrina cattolica, un inizio un pochino inedito, voluto, perché se ci pensiamo bene, parlare del sesto comandamento nella maniera più bella, in realtà, che che se ne pensi, significa parlare di chi è innamorato, perché tutti sono innamorati, sia le persone che sono sposate, almeno i cristiani sono tutti innamorati, sono un popolo di innamorati, quindi come vedremo questa sera, entrando nel merito delle differenti forme di castità, è davvero pittoresco e singolare, il mondo se sente parlare di castità, come dire, gli si addrizzano i capelli, per chi ce l'ha, perché pensa che la castità sia una privazione, sia una cosa brutta, sia la tomba dell'amore, sia la castrazione delle cose più belle che ci stanno nella vita, proprio delle persone un po' moge moge, che camminano con la testa rivolta verso il basso, ma è zingobiti, insomma, che se li vedi ti viene anche il desiderio di fare qualche gesto apotropaico, insomma, queste caricature che girano nel mainstream del mondo, insomma, no? Sono quanto di più lontane dal vero, insomma, un battezzato, ecco, degno di questo nome, è un innamorato, poi certamente le persone che sono sposate, la vedremo questa sera, no? Come dire, vivono quella particolare bellissima forma di amore che è la comunicazione di un amore fatto e trasformato, diciamo così, ad immagine di quello divino, anche ad una creatura, quando questo funziona, che sono in due a scambiarselo reciprocamente, è una cosa meravigliosa, perché il segno che è il matrimonio, perché il matrimonio, l'abbiamo già detto, è il segno quando abbiamo parlato del sacramento del matrimonio, è il segno dell'amore di Cristo verso la Chiesa, cioè, le persone che non sono sposate, ce lo siamo già detti, ecco perché il sesto comandamento è la festa degli innamorati, dovrebbero vedere in due sposi degni di questo nome, dice, ma guarda un po', guarda quanto si amano, sotto tutti i punti di vista, il loro amore è l'immagine del mio amore verso il sommamente amato, perché se non sto nel matrimonio dove l'amore divino lo riverso in una creatura, lo darò totalmente al creatore e non solo, lo riceverò totalmente dal creatore, dal Signore, no? Questo è il mese di maggio, il mese della Madonna, insomma, no? Ecco, i grandi autori mariani erano, noi anche immaginiamo un pochino la devozione mariana, un po' come una cosa, un po' tutta un po', un po' così, no? Ma anche la devozione mariana, se uno legge il trattato della vera devozione di San Luigi Maria Grignon da Montfort, che è un po' il best seller della, appunto, della vera devozione a Maria, si capisce insomma che quello è un testo scritto da un uomo che amava la Madonna, e manco poco, insomma, no? Quindi, ecco, quindi entriamo ulteriormente, ecco, in questo, in questo mondo con la coscienza che non stiamo approfondendo una cosa brutta, d'accordo? Anche se, certamente, ci sono, vedremo, delle cose brutte che non si devono fare, ecco, in forza del Sesto Comandamento, attenzione, cose brutte che, sempre nel mainstream dominante attualmente in giro, sono concepite non solo come le cose più belle del mondo, abbiamo già visto la volta scorsa, insomma, come le cose senza le quali non si può essere realizzati come uomini, come donne, e quindi la vita sarebbe un orrore, insomma, indegna di essere vissute. Ecco, sappiamo che così non è. La volta scorsa abbiamo cominciato a focalizzare, seguendo il carichismo della Chiesa Cattolica, che è veramente spettacolare il modo di presentare questo comandamento, seguendo il suo cammino e noi siamo entrati, appunto, nella prima grande sezione, no? Che, appunto, la vocazione alla castità. Abbiamo visto che la castità è una vocazione per tutti, che protegge l'integrità della persona e che apre al dono integrale di sé. Adesso dobbiamo fare uno step ulteriore, che sono gli altri due paragrafi della parte dedicata alla castità, che sono le diverse forme della castità, le offese alla castità, e poi c'è una sezione che termina nel discorso sulla castità e l'omosessualità. Attenzione, discorso che rimane totalmente attuale se si ascolta evidentemente la voce della Chiesa nel suo magistero, d'accordo? Non nelle prospettive di chi ogni tanto ritiene di poter, come dire, prospettare, presentare sue idee personali a nome della Chiesa. Le idee personali, per carità, se uno vuole esprimerle, averle, se ne prende la responsabilità, in quanto credente, ministro di Dio davanti a Dio, faccia pure, entro certi limiti, purché sia sempre da evidenziare che si tratta di posizioni eminentemente personali, e poi in un ministro, quando queste dovessero andare a confliggere con il catechismo, ecco, quindi non è che è proprio così, non è che del tutto consono poterlo fare, no? Evidentemente anche i fedeli cattolici, battezzati, devono confrontarsi con questo insegnamento della Chiesa, che poi potremo essere molto molto più semplice di quanto si crede, perché se si capiscono bene alcune, come dire, alcune coordinate di base, diventa enormemente facile, insomma, entrare in una certa dimensione, un istante che devo un attimo... ok. Allora, introducendosi al tema, scusate un istante che... ecco, è una piccola cosa... Bene, introducendoci un pochino al tema, dobbiamo quindi adesso cominciare a leggere il catechismo, quindi andiamo al 2348, il primo paragrafo delle diverse forme della castità. Ora, ogni battezzato è chiamato alla castità. Il cristiano si è rivestito di modello di ogni castità. Tutti i credenti in Cristo sono chiamati a condurre una vita casta, secondo il loro particolare stato di vita. Al momento del battesimo il cristiano si è impegnato a vivere la sua affettività nella castità. Ci fermiamo perché questo è un primo passaggio assolutamente fondamentale che dobbiamo cominciare subito a focalizzare, no? E lo vediamo subito. Allora, ogni battezzato, l'abbiamo già visto la volta scorsa, è chiamato alla castità. E tutti i credenti sono chiamati a condurre una vita casta, secondo il loro particolare stato di vita. Essendo stati battezzati ci si è impegnati a vivere l'affettività nella castità. Attenzione ai termini. Per noi cristiani, ecco perché siamo tutti innamorati, non è prevalentemente importante la corporeità nel linguaggio dell'amore, ma l'affettività, cioè l'amore che si dona attraverso dei gesti di affetto. Un gesto di affetto è sempre, proprio intrinsecamente, questo l'ha spiegato benissimo Benedetto XVI nella famosa, bellissima enciclica Deus Caritas Estes, che a mio avviso è uno dei più grandi capolavori degli ultimi trent'anni, insomma. Un gesto di affetto è sempre portatore di amore, cioè se io faccio una carezza ad un'altra persona, quella carezza non dà, perdonatemi il termine, godimento principalmente a me che la do, ma a chi la riceve? Questo penso che siamo universalmente concordi, no? Se io faccio un regalo ad una persona che ha una manifestazione di affetto, il regalo ridonda beneficio principalmente di chi lo riceve. Certo che poi se si entra nell'ottica della carità, come scrive San Paolo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, questo è verissimo questo qui, ma evidentemente entrando nell'ottica soprannaturale della carità. Se no, di per sé un gesto affettuoso è diretto a far felice chi lo riceve. Ecco perché l'affettività nella castità, cioè quando nell'affettività può entrare anche la corporeità, benissimo, e abbiamo già intravisto le condizioni, altrimenti della corporeità nell'amore si può fare a meno, altrimenti dovremmo dire che una persona che è consacrata, suora, frate, prete, monaco, ma anche le persone che non sono sposate vivendo nel mondo, battezzati, quindi i celibi e le nubili, o le vedove, non c'hanno vocazione all'amore, non possono, sono persone assessuate o, perdonatemi il termine un pochino brutale, un po' forte, castrate, quindi sì, che posso fare? Posso fare niente, se no faccio peccato, quindi camperebbero così, è questa la vita? Dobbiamo farci, abbiamo parlato a suo tempo del matrimonio tra Giuseppe e Maria, era un vero matrimonio o era apparenza, finzione, messi in scena, d'accordo? Si amavano Giuseppe e Maria, non si amavano, la Madonna che amava Giuseppe, ma certo che si amavano, eppure tanto, anzi, più di tutti quanti si sono amati tutti quanti gli sposi messi insieme, ecco, non bisogna essere nessuna parola, paura a dire questo, certamente, rettamente comprendendolo, rettamente interpretandolo. Allora, attenzione ai termini, l'affettività nella castità, interessantissimo questo termine, non dice che i cristiani devono vivere la sessualità nella castità, viene dopo, l'affettività nella castità, perché è la castità che regola le condizioni in cui la sessualità si integra dentro l'affettività, l'amore e la persona. Questo l'abbiamo già visto. 2349, e qui c'è una bellissima citazione di un bellissimo documento, datato ma sempre attuale, che è il documento della connessione dell'ottiene della fede di persona umana del 1976, ma sembra scritto ieri, per la sua attualità proprio assoluta. La castità, dice il catechismo citando proprio un virgolettato di una sezione di questo documento, il paragrafo 11, deve distinguere le persone nei loro differenti stati di vita. Le une nella verginità o nel celibato consacrato, un modo eminente di dedicarsi più facilmente a Dio solo con cuore indiviso, le altre, quindi i consacrati, le altre, che sarebbero i non consacrati, quindi detto in parole più comprensibili, i fedeli laici, nella maniera quale è determinata per tutti dalla legge morale e secondo che siano sposate o celibili, o evidentemente nubili, no? Quindi i laici possono essere sposati o non sposati, poi ci sono i consacrati, maschi e femmini. Queste sono le persone che esistono, insomma, gli stati di vita possibili nella Chiesa, no? Le persone sposate sono chiamate a vivere la castità coniugale. La prima cosa che viene detto, abbiamo già citato nelle puntate precedenti, la casti connubi di Pio XI, nel matrimonio si vive la castità non nella forma della continenza, ma si vive la castità, qua lo vedremo piano piano. Ci sono varie sfaccettature della castità coniugale che la coppia deve, dovrebbe arrivarci già pronta, perché il fidanzamento dovrebbe abilitare a vivere poi nella castità coniugale, perché se la castità si vive prima, si vive anche dopo. È chiaro che se non si è vissuta prima, diventa difficile anche viverla dopo. E quando poi, attenzione, si devono rimettere a posto alcune cose, qui poi ne faremo qualche considerazione, come già fatta a suo tempo, bisogna sempre stare un attimo tranquilli, perché se una persona si converte decisamente e acquisisce abbastanza presto la coscienza di alcuni valori, specialmente dentro la vita a due, se li mette in pratica precipitosamente, immediatamente, subito, alloggio a domani, bisogna procedere con gradualità, anche prendendosi la responsabilità di avere, perché se fino a questo momento il matrimonio non è stato vissuto per esempio nella castità coniugale, è chiaro che la responsabilità è sempre tutti e due. Sempre. Perché anche se uno può aver fatto pressioni, qualcun altro ha consentito ad uscire fuori dalle norme della castità coniugale. E dall'oggio al domani, se la persona che sta vicino non ha avuto la possibilità di aprirsi e condividere uno stesso orizzonte di fede, c'è sempre il pericolo che poi va dalla società di guai. Quindi non è che si scende a compromesso col male, ma ci sono dei percorsi faticosi e ad ampio raggio per cercare di rimettere il matrimonio in linea con la legge di Dio. Ok. Spero che sia chiaro tutte queste cose. Quindi i coniugi, chi si sposa la castità coniugale, le altre praticano la castità nella continenza. Allora, attenzione, ecco perché anche il discorso che tanto spaventa o che tanto si parla sull'omosessualità non è tanto difficile. Cioè ci sono delle cose anche in televisione, dice la Chiesa non rispetta gli omosessuali, li maltratta, li margina di fatto anche se dici di accogliere come persona, perché comunque alla fine se una coppia omosessuale chiede, mi dai la benedizione se io vivo la sessualità esplicita nel mio rapporto? Non me la dà. Ma attenzione, non la dà a nessuno la benedizione alla Chiesa se vive la sessualità in maniera esplicita. Non è che non la dà soltanto alla coppia omosessuale, come se fossero come se due persone sono eterosessuali, pure se non si sposano, pazienza, tanto adesso la libera e convivenza ci sta. No, no, non la dà a nessuno. Cioè, ok, un atto impuro e solitario lo vedete, ma non la dà a nessuno. Manco gli sposati, per dirla tutta, insomma. D'accordo? Quindi, cioè, se non si capisce l'orizzonte globale, è chiaro che poi ci si imbatte. La Chiesa non ha mai condannato il fatto che, anche perché non è chiara la genesi, cioè se una persona tende ad innamorarsi di una persona del suo stesso sesso, anche qui alcune espressioni che qualcuno ha frainteso, cioè il controllo dell'emozione e dei sentimenti, cioè impedire di nascere, è impossibile. D'accordo? Ci sono varie teorie sulla genesi di queste cose. Il problema è che, cioè, se un ragazzo si innamora di una ragazza, la legge morale e quindi il sesto comandamento gli dice, fai il bravo, ok? A meno che non contrai il sacramento del matrimonio, come abbiamo già visto, per volontà di Dio, possono creare civilmente tutto quello che vogliono, ma quello che il Signore ha rivelato e che vuole, da la genesi in poi, è che questa cosa avvenga tra un uomo e una donna, punto. E quello è l'unico ambito lecito di esercizio della sessualità esplicita, entro, vedremo che lo specifica subito, adesso qui, le modalità con cui gli sposi possono vivere questa dimensione. quindi, se non si capisce l'arco globale, cioè, come questa virtù, per un cristiano in quanto tale sia importante, cioè, io lo capisco, mi rendo perfettamente conto, anche io quando ero giovane, l'ho detto tante volte, non mi vergogno di dirlo, insomma, perché non è che si deve pensare che uno cade dal cielo, cioè, io sono figlio del mio tempo, certo, 40 anni fa, 5 anni fa, non eravamo a livelli di oggi, però, insomma, cioè, eravamo già abbastanza avanzati, quindi, io sono nato nel 71, nel 68 c'è stato 3 anni prima, quando io avevo 10 anni, la rivoluzione sessuale aveva già miettuto diversi costumi, eravamo già abbastanza avanti, diciamo così, nell'abbassamento, diciamo, del tasso, come dire, di morigeratezza e di castità rispetto ai tempi precedenti, insomma, no, quindi, allora, io non capivo tante cose e ne parlavo con i ministri, dico, ma mi spieghi perché, mi spieghi perché, mi spieghi perché, mi spieghi perché, cioè, per carità, io li voglio tanto bene, tanto non faccio nomi e cognomi, no, non mi puoi semplicemente dire, beh, se sei fidanzato lo devi aspettare perché, perché devi arrivare al matrimonio, sì, ma perché però, io chiedevo sempre perché, d'accordo, cioè, siccome si ha un pochino di, come dire, di timore, di titubanza, come dire, si tende a davvero un pochino paura, cioè, sentiamo il carichismo della Chiesa, al momento del battesimo il cristiano si è impegnato a vivere la castità, la sua affettività nella castità, punto, cioè, perché tutto questo qui? Ma perché se uno guarda alla vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, come hanno vissuto e quello che hanno insegnato, se torna al progetto creativo di Dio, maschio e femmina li creò, a quello che Gesù nel Vangelo abbiamo già visto, dice del sacramento del matrimonio, dell'adulterio e a tutto quello che, come vedremo, San Paolo approfondisce su questa materia, è tutto chiaro. Poi ci sono anche delle spiegazioni differenti, che andremo anche ripercorrendo se il Signore ci aiuta, no? Quindi ci sono tre forme della virtù della castità, questo ricordiamo, quella degli sposi, ma come? È la nomina per prima, quella degli sposi, ok? Cioè, perché generalmente, cioè, voi provate ad andare in giro a chiedere a, anche ai sposati, ma voi dovete vivere la castità? Dice, ma io sono sposato, perché dovete vivere la castità? La castità perché non è sposato? Questo è, come dire, la percezione comune, perché si confonde la castità con una sua forma peculiare che è la continenza. La continenza, che è chiesta a tutte le persone non sposate, è la rinuncia all'esercizio attivo dell'impulso sessuale. Ripeto, perché questo, circa le motivazioni di questo, se uno approfondisce, 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 e qui entra in vallo, ritorno sempre alla stessa cosa, l'ipotesi circa una certa, come dire, interpretazione possibile e non, come dire, avallata da nessun intervento magisteriale, sì, però dalla tradizione padristica e teologica, questo sì, se si comprende il peccato originale in una certa dimensione, tutte queste cose assumono ulteriore, come dire, possibilità di approfondimento, comprensione e intellegibilità, comprese anche alcune cose del tutto, la Chiesa per esempio, pur lasciamo perdere l'ipotesi del peccato originale, ma se voi leggete nel Catechismo, quando è che viene trasmesso il peccato originale? Nell'atto del concepimento, nel peccato mi ha concepito mia madre, il Salmo 50, questo la Chiesa lo insegna, e come mai? Perché? Nell'atto del concepimento deve essere trasmesso il peccato originale, perché proprio in quel momento? Punto interrogativo, ce lo siamo mai chiesto? Ci sono altri autori, io l'ho letto, tanto per mandare qualche spia, pensiamo all'antica alleanza, all'antico testamento, ciò che i nostri fratelli nell'antica alleanza, ebrei, ancora ortodossi, osservati, ancora praticano, qual è l'alleanza che Gesù, che Yahweh, che Dio ha fatto con Abramo? L'alleanza di Abramo, la circoncisione, no? Pensiamo tutta quanta alla questione della Chiesa primitiva riportata negli Atti degli Apostoli, l'abbiamo appena letto nel tempo di Pasqua, no? Che facciamo? Se una persona si converte al cristianesimo lo facciamo prima circoncidere e poi battezzare o passa per il battesimo direttamente? Che cosa è la circoncisione? Lo sappiamo tutti che cos'è la circoncisione, ma ci siamo mai chiesti? Ma come mai? Cioè, è una cosa, come dire, pruntarella la circoncisione, per carità non voglio certamente, come dire, dire niente su quello che ha fatto il nostro Signore, no? Ma il gesto in sé è un gesto abbastanza violento, abbastanza cruento, insomma, no? Cioè, se ci penso, mi viene la pelle d'orga. Gesù è stato circonciso, eh? Ma c'è, perché la circoncisione? Punto interrogativo. Questa è un'altra no? Le nostre care amatissime donne, come mai che ogni mese devono vivere l'esperienza che tutti quanti conosciamo, esperienza umiliante, mortificante, antipatica, d'accordo? Che attenzione, nell'Antico Testamento, da leggere il libro del Levitico, che cosa succede ad una donna quando sta nel periodo suo? Era la fine del mondo. Allora, è chiaro che queste cose sono state superate nel Nuovo Testamento, almeno per noi cattolici, no? Attenzione. Quindi, fermo restando che alcuni lo osservano ancora, perché per l'ortodossio salvano ancora quelle cose, no? Ma attenzione, anche se con la Nuova Alleanza sono decadute, rimangono come testimonianza di una fase della storia della salvezza per farci riflettere, no? Come mai? Una donna che stava... Allora, noi da persone del XX secolo cominciamo a dire, ah, ma perché quelle erano società arcaiche, perché già la donna che le facevano di tutti i colori in modo che dovevano umiliarla e mortificarla anche per questo motivo. Insomma, cioè, è possibile dire tutto, no? Però, attenzione, che queste cose stanno scritte nella parola di Dio, che ha capito? Cioè, non possiamo prendere l'Antico Testamento, come dicevano gli eretici, e buttarlo dalla finestra, come se non ci fosse. Alcune cose, insegnare a Chiesa nella Dei Verbum, erano, appunto, ripeto, transitori, infatti non le osserviamo e non le dobbiamo osservare, no? Una donna che oggi ha i suoi periodi è perfettamente tranquillamente, può fare tutto, insomma, no? Cioè, non è che non può fare la comunione perché sta... Capito? Tuttavia, come mai quella legislazione? I dolori e i travagli del parto, no? Questa è una conseguenza del peccato originale, è come dire, inflitta dal Signore alla Deva, l'ha scritto nel capitolo terzo del libro dei De Genesi. La sofferenza e i travagli del parto. Parto, insomma, io non sono una donna, e cioè, quindi, non l'avrei comunque saputo mai, cosa pure consagrato, ma, cioè, tutti sanno, insomma, che il parto è una delle cose più dolorose che esiste per le nostre sorelline appartenenti appunto al genere femminile, no? Eppure è una cosa bellissima perché mettere al mondo una vita di per sé è una cosa bellissima, meravigliosa, come è stata tragedia, cioè, io ho avuto l'esperienza, avevo potuto, cioè, i micetti che girano dentro casa mia sono trovatelli, sono venuti dentro casa, perché il suo tempo sta presso a loro, gli apro la porta ogni tanto vengono dentro, insomma, no? Una di queste era una femminuccia e io, che caspita, cioè, a un certo punto si è presentata un bel giorno che si capiva che, e poi pure partoriti, sti micetti, io sono ignorante, ma una gattina che partorisce i micetti, non è che strilla, che sta nella doglia del parto, la compie come una cosa assolutamente naturalissima, normalissima, sembra, io non sono un esperto, quindi è un'osservazione empirica, potrei essere smentito, però io ho fatto qualche riflessione, insomma, sembra che faccia una cosa normalissima, e invece le nostre povere mamme, pure la mamma mia per fare il panno, insomma, ha patito, ha patito assai, cioè, tutte queste cose, che cosa ci dicono? Punto interrogativo, no? A che cosa ci fanno pensare? Amici miei, non insisterò mai abbastanza, ormai sono anni che ho raggiunto questa persuasione, no? Cioè, i valori, se non sono profondamente interiorizzati e per quanto possibile riflettuti e pensati, non saranno mai adeguatamente vissuti. E né si possono concepire semplicemente come imposizioni dall'esterno di una legge retrograda e che dovrebbe cambiare perché i tempi sono cambiati. Quanta gente pensa questo anche della Chiesa? La Chiesa continua ancora, sta ancora al medioevo, sta, cioè, ma quando la fammo finita con tutte queste cose qui? Cioè, sappiamo benissimo, ma questo non è un problema di imposizione di norme che la Chiesa sia inventata. Le norme, l'abbiamo già visto, i comandamenti sono espressione, come dire, pratico-operativa, i valori che stanno alla base. Allora, qui dobbiamo capire, anzitutto, che cos'è la cosa bellissima che l'uomo deve vivere e che è l'amore. Pensiamo a un altro particolare, no? Quando i Sadducei, sto citando la Sacra Scrittura, cioè, tutte queste cose per aiutare a entrare in questo contesto. Vi ricordate l'esempio dei Sadducei che non credono né nella resurrezione? Per fare polemica con il nostro Signore, cosa gli vanno a dire? Dice, ma sai, c'è scritto che se a una donna muore il marito, il marito deve prendere la moglie del fratello per dare una discendenza, perché se no il marito vuole rimanere. C'era una donna che praticamente sono morti, uno ha preso l'altro, e si è preso sette mariti, sette fratelli, e la risurrezione della carne è questa di chi sarà moglie, cioè, capiamo, cioè, non è che, allora, il Vangelo deve essere meditato, che cosa stanno dicendo questi? Se c'è la risurrezione della carne, questa con chi starà insieme? Perdonatemi, diciamo, la prosaicità e la ferialità, cioè, lì si parla di moglie, attenzione che moglie e sposa, l'abbiamo già visto, sono due cose differenti, anche per noi, eh, quando due sposi, ricordo che ci siamo detti, escono dalla chiesa, che hanno celebrato il matrimonio, non sono ancora marito e moglie, direvi di chiaro marito e moglie, sono sposo e sposa, oggi sposi, si dice anche nel linguaggio, quando è che diventano marito e moglie? Dopo la prima notte di nozze, e non c'è bisogno di spiegare perché? Quindi quello dice, alla risurrezione della carne, questa con chi sta insieme? Se la devono contenne in sette? E cosa dice Gesù? In risposta, i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, i figli della risurrezione, no. Cosa sta dicendo? Questo è inequivocabile, eh, non è una cosa, d'accordo, una supposizione. Sta dicendo che nell'altro mondo, perdonatemi, è la sessualità estricita, non c'è, non esiste. Attenzione però, a non immaginarsi il paradiso, come magari qualcuno, specialmente tra gli avversari e chiamiamoli anche nemici della chiesa prospetta, cioè, se qualcuno si pensa che il paradiso è un posto dove si sta con un uso lungo, con la faccia a terra, a piangere, a fare penitenza, a fare le processioni, cioè, le cose che noi qui avvertiamo, cioè, il paradiso non è così, eh. Il paradiso è la somma e la concentrazione di tutti i diletti, le gioie, le delizie che occhio non vide, ma orecchie autine, ma entrano nel cuore di uomo. Ho citato in una catechesi recente un testo che parla di queste cose, della cosa occidentale del paradiso, lo c'è, dove lo posiziono pure qui, che è il libro di Tenera Amata, al di là dei confini del tempo e dello spazio, si trova su Amazon, per chi ci crede, cioè, in paradiso è il luogo dell'amore, i santi si amano ed esercitano l'amore, attenzione, ma, proprio in questo libro, si legge, attenzione, per chi ci crede, ma non ci serve questo libro qui, cioè, il fatto che Gesù dice, non c'è la sessualità in paradiso, quindi significa che il piacere sessuale, che è un piacere di per sé, ma in paradiso non c'è. Che significa? Significa che, per la sua, perdonatemi, bassezza, non entra in paradiso, perché in paradiso c'è di molto meglio, cioè, molta gente terrena che si pensa che fa coincidere il piacere sessuale con la felicità, quindi, se tu ti azzardi a proibirmi il piacere sessuale, tu sei un folle, tu vuoi la mia infelicità, ma questa è la percezione soggettiva di alcune cose, ma questa non è la verità, e per capire questa cosa, la castità bisogna viverla, io non mi sento affatto una persona infelice, adesso non voglio mettere avanti me stesso e poi ne parlare di me stesso, o frustrata, o che mi manca qualcosa, d'accordo? La gente si pensa, a me è successo, in contesti, diciamo così, anche di andare in giro, ma è successo una volta che per una strada mi incontro un ragazzino, non vi dico in quale località, non da queste parti, una località dove vi danno un po' per risu sulla lingua, e mi guarda, fa, padre posso farle una domanda? Cioè, ma io sono sicuro che uno, che fare il prete è anche una cosa bella, può essere anche a tratti, e poi mi chiede esplicitamente, ma come si fa a vivere senza? Immaginate cosa? Dico, tu non lo sai, d'accordo? Io lo so, d'accordo? Come mi vedi? Mi vedi forse che faccio cose strane, che ho i ticco, cose di questo genere? Mi vedi che cammino col muso lungo, che non sto a peperci? No. Allora, tre forme della castità, sposi, vedovanza e verginità. Con vedovanza chiaramente si intende, la vedovanza è la condizione laicale di chi non c'ha più la moglie e il marito, quindi dentro lo stato di vedovanza sono anche da considerare contenuti anche i celipi e i nubili, che non è che non c'hanno più il marito, ma non ce l'hanno avuto, o la moglie, ma non ce l'hanno avuta mai. Ok? Nel 2350 si parla, e si parla anche oggi, del tempo del fidanzamento. I fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza, anche i fidanzati. Continenza, continenza significa, attenzione, qui si sta dicendo indirettamente, continenza significa esclusione di esercizio attivo della sessualità, perdonatemi, quindi che porti a godere di quello che è il piacere sessuale. Dentro il fidanzamento, sta scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, non nei manuali di morale sessuale di quattro secoli fa, ok? Questo è il Catechismo della Chiesa Cattolica, approvato da San Giovanni Paolo II, se non ricordo male, era il 92. D'accordo? E perché? Adesso poi lo vedremo, finisco di leggere il numero, parliamo un attimo di questo. Messi così alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, si alleneranno alla fedeltà e alla speranza di riceversi null'altro da Dio, riserveranno al tempo del matrimonio le manifestazioni, attenzione come le chiama, di tenerezza proprie dell'amore coniugale, si aiuteranno vicendevolmente a crescere nella castità. Partiamo da questo, cioè, che cos'è la sessualità nel matrimonio secondo la mente della Chiesa? Tenerezze proprie dell'amore coniugale. Ora, chi è sposato che ascolta questa Catechesi deve chiedersi, cioè, la nostra sessualità intraconiugale si potrebbe chiamare così tenerezze proprie dell'amore coniugale, perché questa è la sessualità benedetta da Dio, questa perché in forza della castità coniugale anche nel matrimonio si può peccare e come contro la castità e non soltanto, cioè, qui le coscienze devono essere formate, cioè, che la coppia cristiana unita dal sacramento del matrimonio viva come una cosa bella, come un dono di Dio, l'esperienza della sessualità attiva e sponsale, è una cosa da costruire. E come si prepara? Rispettandosi reciprocamente nel tempo del fidanzamento. Perché la castità nel tempo del fidanzamento? Perché il tuo fidanzato o la tua fidanzata per ora non ti appartiene, non è tuo, non vi appartenete. Quindi il linguaggio della donazione che comporta anche la corporeità, quindi fisico, anima e corpo, che è la donazione integrale di sé, non è affatto prevista nel tempo del fidanzamento. Perché il fidanzamento non è il tempo in cui ti sei donato, cioè, nella mente della Chiesa che decodifica quella che è la volontà di Dio, la sessualità deve essere sussunta nel linguaggio di amore che si dona. Quindi, io già ti ho donato il mio affetto nel fidanzamento. Il fidanzamento è il luogo dove l'affettività si deve imparare, si devono moltiplicare in tutti i modi possibili i gesti di affetto, i gesti con cui tu fai sentire l'altro amato, considerato, importante, impari a sacrificarti per lui, a confrontarti con lui, a metterlo al centro, a non vivere da solo, a non pensarti da solo, a non fare le scelte da solo. Questo è una palestra questa qui. Cioè, i matrimoni che funzionano bene, oltre alla grazia sacramentale, hanno avuto alle spalle un fidanzamento vissuto nella castità e nella santità. Ci sono, grazie a Dio, amici sacerdoti che stanno facendo in alcune diocesi, specialmente a Roma, e credo che anche il mio amico Fabio Rosini sia impegnato in una cosa di questo genere, non si accontentano più di fare il corsetto prematrimoniale. Perché che lo fa a fare il corsetto prematrimoniale? I fidanzati arrivano che sono già 5, 6, 7 anni che stanno insieme, moltissime situazioni oggi, arrivano che sono conviventi già da 4-5 anni, molestando che non si giudicano le persone, ma voi capite, no? Dice, che peccato c'è a convivere? Oggi si pensa in giro, ma scusa, se i fidanzati sono chiamati a vivere la castità nella continenza, cioè, capite? Cioè, la convivenza, che cosa, diversa dalla continenza, che cos'è? È cominciare a vivere come marito e moglie nel tempo del fidanzamento, senza esserlo. Quindi, e si presume, tra l'altro, che la convivenza, come dire, more uxorio, ecco perché la convivenza no, ed è no anche oggi. È diverso il discorso, purtroppo, che moltissimi giovani battezzati, parte il fatto che quando sentono parlare di castità prematrimoniale è come se sentissero qualche cosa che la dice un alieno, d'accordo? Ma nel contesto in cui stanno, oggi si sta. Lo fanno tutti, ormai questo è diventato un fatto culturale, guardate, cioè, amici miei cari, io l'ho già detto anche per il discorso, lo ripeto anche in questo contesto. Allora, lo fanno tutti, mi adeguo alla cultura dominante, è la cosa più facile da fare, d'accordo? spesso e volentieri, ma non è quasi mai la cosa giusta. Non puoi, non devi fare questo qui, cioè, tu puoi anche nelle tue scelte fare quello che fa la maggioranza, ma non lo devi mai fare giustificandoti con la maggioranza o solo perché lo fa la maggioranza. Tu ti siedi, rifletti, pensi, sei credente, ti confronti con la legge di Dio, non la capisci? Sentite i discorsi di Papa Francesco che faceva ai giovani? Non capite la castità? Andate dal parroco, dite, oh, tu mi devi spiegare perché è così e non mi dica che non c'è tempo perché tu stai qua per me, te metti seduto e mi devi far capire perché io non posso fare niente col fidanzato, capito? Vai, è guai a lui se non te lo spiega, è guai a lui se non te lo spiega bene, tra l'altro. Quindi c'è tutto il diritto di essere informati, ma c'è anche il dovere di formarsi, capite? Cioè noi non possiamo rinunciare al compito di essere uomini e donne, ne possiamo scaricare comodamente, ma questo non ci giustifica davanti a Dio, sulle spalle degli altri, le scelte nostre. Ah, lo fanno tutti e lo faccio pure io. E chi ti ha detto che quello che fanno tutti è giusto? Ah, me l'ha detto tizio e io mi sono adeguato e chi te l'ha detto? Che tizio deve decidere per te? Chi te l'ha detto questo qua? Ah, me l'ha detto Don X e chi è Don X? Chi è Don X? È il tuo alter regolo? Don X sarà la persona che se è un bravo Don X ti dirà c'è questo problema, guarda, ok, in questa situazione sono implicate queste dinamiche, questi valori, queste cose che ci insegna la fede, eccole, pensaci, pregaci, se vuoi chiarimenti a disposizione, ne riparliamo e poi decidi. Vuoi sapere la legge di Dio? Questa è. Al di sotto di questa soglia è peccato, se vuoi ti spiego pure perché, ma il resto lo ti fa tu, lo ti fai. Il resto lo ti fa tu. Allora, il reciproco rispetto, c'è un'altra motivazione. Qual è? Che se quella cosa non è tua, la persona a cui sarà c'ha il diritto di trovare una cosa nuova. Io sono stato fidanzato tanti anni, d'accordo, chi mi conosce sa chi era la mia fidanzata e sa anche che la mia fidanzata poi si è sposata. Il marito della mia fidanzata certamente non ha avuto modo di biasimare me, perché ha trovato la mia fidanzata come macchina nuova. Per grazia di Dio certamente non è, non è, come dire, non è merito nostro. D'accordo? Ci siamo aiutati reciprocamente. Ma ha trovato una macchina. Io ero convintito, io pensavo sempre, dico, ma io sono talmente innamorato che se non mi sposo con lei non mi sposerò. E infatti non mi sono sposato. Non mi sono sposato. Ma se quella voleva sposarsi con qualcun altro, perché doveva andare a sposarsi con qualcun altro quando il dono totale di sé l'aveva fatto a me e io mi ero preso qualcosa che non era per me, non era mio. Era per il marito. Non era per me. Sapete, c'è una coppia, ci sono dei bellissimi libri che hanno scritto, sono Jason e Cristalina Evert, sposati, che stanno facendo una campagna procastiti, procastiti negli Stati Uniti, veramente impressionante, che dicono, fanno questi sondaggi, chiedono, ma a te ti piacerebbe che, di sposarti con una persona che non ha conosciuto nessuno, quindi nel senso che è vergine, oppure con una persona già navigata che ne ha fatto i quattro e carlo in Francia. La grande maggioranza, almeno fino a qualche anno fa, di ragazzi, secondo i loro sondaggi negli Stati Uniti diceva che voleva una persona, una persona veggies, ah, bene, ma tu nei tuoi rapporti quindi vivi in castità, quindi rispetti l'altro, ah, no, 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 questo che c'entra, ma siamo giovani, ci stiamo a divertire, però quando mi devo sposare facciamo le cose seri, e come fai tu a chiedere ad una persona ciò che tu non hai e ciò che tu non dai, come fai? Come fai? C'è un terzo punto ancora, dopo uno è sposato, non è che finiscono le tentazioni, cioè tu sei sposato, oh che bello, sarò soltanto tuo, per tutta la vita sarò soltanto e soltanto con te, sì, bella questa cosa qui, ma sei sicuro che non sarai tentato? Le tentazioni esistono per tutti, l'adulterio, che è una cosa molto brutta, non è che è una cosa, cioè, sorge come tentazione, cioè, una coppia di sposi sono un uomo e una donna, ci stanno altri miliardi di uomini, altri miliardi di donne in giro, ci sono circostanze, momenti, occasioni, cioè, infinite. Se una coppia, ma anche una persona, è stata capace durante il fidanzamento, perché il fidanzamento è un allenamento di fedeltà, cioè, astenersi dai rapporti coniugali nel fidanzamento è in realtà allenarsi alla fedeltà, come dice il Catechismo della Chiesa, perché? Perché il sacrificio che io faccio adesso per rinunciare a te ora, nonostante tutto il mio amore, mi fortificherà, per questo rispetto sacrosanto che io ho acquisito di me, di te, della nostra corporeità, della nostra integrità, mi fortificherà, e tu potrai fidarti di me, quando, dopo che siamo sposati, io sarò tentato, io che sono maschietto verrà una principessa rosa in un momento magari in cui noi stiamo in crisi, bella, giovane, carina, disponibile, d'accordo, tu invece sei diventata grassa, sfatta, non me dai retta, non te curi, eccetera, eccetera, proprio in quel momento il nemico maledetto te la manda, e tu che fai? Ma se nella vita non sei stato mai capace di dominare te stesso, neanche di dire i no doverosi dinanzi alla legge di Dio, come non hai detto di no prima, non direi di no dopo, non direi di no dopo, cioè, questi sono dati confermati dai sondaggi e dalle esperienze, d'accordo? Negli Stati Uniti sempre a sta coppia aveva fatto una percentuale, dice la percentuale dei divorzi, da quasi totalità, con rapporti prematrimoniali, e aveva fatto una stima di probabilità enormemente inferiori di divorzio, da parte di che è arrivato vergine al matrimonio, ma anche qui, cioè, ci vorrà la scienza infusa perché hai visto questa cosa qui, io non credo, no? Amici miei cari, fate, cioè, io sto facendo, capite che non sto parlando niente a nessuno, sto suggerendo piste di riflessioni, uno poi ci pensa, dice, donate, ho fatto un sacco di stupidaggini, benissimo, se pensi questo hai avuto diritto di farlo, no? Allora, voi capite, no? Se una persona non conosce donna, e se una donna non conosce uomo, d'accordo? Arriva un momento del matrimonio, non sa niente del sesso, non lo sa in questo nostro maledetto e corrotto ambiente in cui stiamo, maledetto in questo senso, che è proprio una montagna di cloaca, forse avrà visto qualcosa, però un conto è vedere qualcosa da cui dobbiamo comunque proteggersi, un conto è viverla, ok? Quella persona non conosce nessuno, quindi conoscerà la dimensione della sessualità proprio attraverso di te, non sa come è con un altro o con un'altra, scusatemi se sono così... Allora, questo, come dire, è una protezione del matrimonio futuro, perché? Perché, come dice Gesù nel Vangelo, e questo è uno dei Vangeli che si legge nel matrimonio, cioè, in tutte le case che esistono nel pianeta Terra, succede, come dappertutto, che arriva il momento in cui ci stanno gli alluvioni, gli uragani, soffiano i venti, strarivano i fiumi. Che fa sta casa? Crolla o non crolla? Da cosa dipende? Se è costruita sulla sabbia o sulla roccia? Allora, se uno arriva al matrimonio e c'ha avuto dieci relazioni, tutte quante vissute come se già si fosse marito e moglie, d'accordo? Quella parte il fatto che dire ti amo totalmente, si può dire in verità ti amo totalmente, perché la castità prematrimoniale, ancora, è anche la garanzia dell'integralità del dono di sé. Perché io ti amo totalmente, cioè, coloro che sono innamorati della Madonna e che seguono San meggi e maria, non amoforte, la consegnazione amofortana si chiama totus tus, io non sono solo tuo, ma sono tutto tuo e solo tuo. Cioè l'amore vero è quando tu guardi in faccia il tuo sposo o la tua sposa e dici io sono tutto tuo, io sono solo tuo, come sono io, non lo sa nessuno. Pensiamo a una donna che possa dire al marito, scusate se sono, come mi ha fatto mamma, mi hai visto solo tu, non solo non mi ha mai avuto, ma non mi ha mai visto nessuno. Cioè pensiamo anche a come si potrebbe recuperare anche da parte femminile un minimo di decenza e di decoro, adesso non voglio neanche parlare per ora di modestia nel vestirsi, ma non ti sembrerebbe una cosa fatta meglio e più bella, più trasmissiva di amore che tu possa dire al tuo marito? Solo tu mi hai visto, hai visto quanto ti amo, il resto non soltanto che non mi ha voluto, non mi ha visto e non mi vede, perché come vado conciata in giro deve soltanto usare l'immaginazione per capire come sono fatta, perché non lo vede. Tu lo sai, ma tu lo sai perché a te ti amo, perché il mio corpo è tuo ed è solo tuo e tu solo ne godi perché sei mio marito. Cioè voi capite come, voi immaginate una coppia che vivesse in questo modo? E che per forza che anche la sessualità, cioè come si fa a nobilitare la sessualità, che Gesù dice è una cosa di per sé bassa, limitata a questo mondo, in paradiso non c'è, ma la possiamo nobilitare e prova a viverla così, è certo che non nobiliti e manco poco, e manco poco, per tutti quanti dibattiti, a me mi viene soltanto che nervoso quando ho sentito certe cose, la Chiesa ha demonizzato la sessualità, a se può fare niente, la Chiesa ha demonizzato proprio niente, la Chiesa ha indicato un percorso certamente impegnativo, ma le cose cristiane, figlioli e miei cari, sono impegnative, noi seguiamo uno che ci ha detto chi vuole venire dietro di me, io stesso prendo la nostra cosa di loro e mi segua, Gesù Cristo è stato il più povero fra i poveri, venuto sul pianeta terra, Gesù Cristo è morto in croce, non è morto ad esommo, quindi il cristianesimo propone un altro ideale di vita, certo che è impegnativo, ma vai a vedere una coppia che vive in questo modo, io ne conosco qualcuna di coppia che vive in questo modo, ma vai a vedere, cioè che pure a me io sono felicissimo di essere prete, ma ti fa venire l'idea, ma guarda, ma per vivere una cosa così bella, io se mettessero il sacramento non lo faranno mai, ma se i prete si potessero sposare, non mi sposerei mai, perché sono così contento di quello che ho, non perché rispetto al sacramento del matrimonio, attenzione, ma perché sono così contento che non mi verrebbe proprio voglio andare a cercare, ma se tu vedi una famiglia, una coppia, come quella che ho cercato di tratteggiare, che ha vissuto in questo modo, ma dice, ma è una cosa talmente bella, cioè peccato signore mio che in questa vita o fai uno o fai l'altro, cioè capite il senso, no? che è talmente bella, che io sono la persona più fortunata del mondo perché insomma sublimare la sessualità nella donazione di sé al signore e alla chiesa è una cosa meravigliosa, ma insomma questa sarà pure, ma è veramente bella, ma però è bella così, capite? almeno c'è, poi uno, ripeto, ecco, ci si confronti con queste cose, guardate non fa niente se ci mettiamo 18 anni a fare il sesto comandamento, preferisco farlo così, d'accordo? Perché se una coppia di fidanzati sente queste cose o ancora che non ci hanno avuto e magari veramente dice, ma ammazza che bello, ma io la faccio, cioè io voglio campare così, ma non perché c'è stacco semplicemente il comandamento che mi devo sentire un frustrato che favo niente e poi tutti gli amici arrivano in giro perché stiamo fuori dal mondo e che è sta roba, così non credo, era cosa, cioè a parte che non regge, d'accordo? Perché presto tardi cederai se non c'hai delle forti motivazioni, ma non è manco bella, e invece la vita cristiana è bella, bellissima, è impegnativa, ma poi dipende pure dai punti di vista, perché sei talmente contento quando vivi nell'amicizia con il Signore, in grazia, c'è quella pace del cuore, c'è quella gioia del cuore, c'è quella serenità anteriore, che non ce l'hai se non campi così, non ce l'hai! quindi, messi alla prova, scopriranno il reciproco rispetto, rispetto, tu stai vicino davanti ad una persona che è sacra, che non è ancora tua, qual è il senso del fidanzamento cristiano secondo la volontà di Dio? Bene, nel senso è questo qui, mi sento chiamato al matrimonio e sono sempre disposto, cioè un giovane deve avere sempre il cuore aperto perché quello che Dio ha pensato per te è la cosa migliore, sta tranquillo che se Dio ha pensato che ti sposi, non diventi prete o suo male, Dio non vuole la tua frustrazione o il tuo male, ma tu tieni sempre il cuore aperto, mi sento chiamato al matrimonio, se mi devo sposare qualcuno potrò pure sposare, quindi apro una porta, conosco una persona, mi comincio ad innamorare, l'innamoramento è una cosa meravigliosa, io posso dire, insomma, non vorrei che il Signore si offendesse, ma io sono contento per certi aspetti, anche perché grazie a Dio il Signore ha protetto l'integrità, almeno della mia persona, però di aver sentito nel cuore che cos'è l'innamoramento anche umano, anche perché poi sono pure i termini di paragone, l'innamoramento è una cosa di per sé bella, d'accordo? E ora cominciamo a stare vicino, usciamo e poi piano piano cominciamo a stare insieme, a scambiarci l'amore, a scambiarci l'affetto, sempre in quella dimensione, dice qual è il limite della continenza, non è che ci stanno da fare i disegni, cioè tutto quello che nella gestualità è significativo dal punto di vista affettivo è un ambito percorribile, quando senti che comincia ad accendersi la libidine, quello è il limite, d'accordo? È l'accensione della libidine, perché se si accende la libidine va a rischio la continenza, se va a rischio la continenza va a rischio la castità del finanzamento, se la castità del finanzamento viene violata esci dalla volontà di Dio. Il limite poi è chiaro che ci si arriva, poi la prossima volta quando faremo le offese alla castità entreremo nel merito, il calechismo grazie a Dio, qui è molto esplicito, molto esplicito, usa nomi e cognomi, quindi non ci saranno spazi nei dubbi, ma già con quello che uno ha detto, schivone, ci arriva, lo capisce, e attenzione riserveranno e si aiuteranno a crescere nella castità, io questo l'ho vissuto, con la mia fidanzata ci aiutavamo, perché un momento uno è un po' più debole, un momento è un po' più debole l'altro, un momento uno sta maggiormente vicino al Signore, quindi si sente maggiormente motivato, un momento è un aiuto reciproco, ci si aiuta anche quando si passano delle soglie, dicendo Stiamo andando un pochino oltre, non c'è più controllo di me, facciamo un attimo, cioè lo si fa con molta, cioè quando c'è un rapporto bello, si fa con estrema naturalezza, con estrema facilità, d'accordo? E riserveranno al suo tempo le tenerezze, guardate questa espressione meravigliosa, le tenerezze proprie dell'amore coniugale, torno a invitare gli sposi, vi vedete le tenerezze proprie dell'amore coniugale, che sono proprio bellissime, ecco, speriamo, la vita cristiana è bella, ecco, nel Sesto Comandamento è una cosa bellissima, speriamo che tutti quanti siano aiutati a interiorizzarlo e a comprenderlo, ci vediamo la prossima settimana, se Dio vuole, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, una santa notte a chi ha seguito la diretta a tutti e a presto.